adesso un semplice esempio dell'uso di bocchi come tutor supponiamo di chiamare alla lima un ragazzino per risolvere questo esercizio sulla divisibilità se il ragazzino è un po' in crisi ecco la mascottina lo scogliattolino il tutor sempre pronto ad aiutare i ragazzi potrebbe quindi rappresentare un personaggio positivo ben voluto dai ragazzi che serve che è sempre disponibile a dar loro una mano ok sono qui per aiutarti allora devi sapere che un numero è divisibile per tre se la somma delle sue cifre è divisibile per tre ripeti forza se non lo hai imparato bene te lo ripeterò io quante volte vorrai ciao ciao ecco questa è una cosa molto semplice il testo detto dallo scogliattolino può essere digitato dal docente o anche dai ragazzi stessi che preparano così tante piccole definizioni e sviluppando le loro capacità di consapevolezza di quello che hanno imparato e quindi approfondendo sempre le loro conoscenze se non abbiamo il widget vochi inserito nei notebook possiamo procedere in un altro modo inserire un collegamento direttamente al sito di vochi dove troviamo lo scogliattolino in questo modo cliccando su questa casella si apre il browser ci si collega al sito di vochi e dove è stato pubblicato la nostra mascotte che è sempre pronta ok sono qui per aiutarti ad aiutare i ragazzi